Benvenuti, oggi ci immergeremo nel meraviglioso mondo del Pothos. Conosciuto anche come Epipremnum Aureum o Shindapsus Auros. Questa pianta è una delle più popolari per gli appartamenti grazie alla sua bellezza e alla facilità di cura. Il Pothos è una pianta rampicante che può aggiungere un tocco di verde lussureggiante a qualsiasi spazio. Le sue foglie a forma di cuore variano dal verde scuro al verde chiaro. Con splendidi motivi marmorizzati o macchi bianche. Questa varietà di colori lo rende una scelta decorativa versatile per qualsiasi ambiente. Una delle caratteristiche più apprezzate del Pothos è la sua resistenza. Il Pothos è incredibilmente resiliente, capace di prosperare anche. Se, di tanto in tanto, viene trascurato durante l'irrigazione. Rendendolo un'opzione ideale per chi non ha un pollice verde. Inoltre, il Pothos è noto per le sue proprietà purificanti dell'aria. Aiutando a rimuovere le tossine e a migliorare la qualità dell'aria interna. Prendersi cura del Pothos è semplice, richiede un terreno ben drenato. È leggero e può essere coltivato sia in vaso che come pianta rampicante. Assicurati di non esporlo alla luce solare diretta per evitare scuttature alle foglie. Inoltre, il Pothos teme il freddo e le temperature inferiori ai 10 gradi centigradi possono danneggiare la pianta. Una caratteristica affascinante del Pothos è la sua capacità di propagarsi. Facilmente tramite il taglio e l'immersione in acqua. È sufficiente tagliare un pezzo di stelo e immergerlo in acqua. Dove svilupperà radici, permettendoti di creare nuove piante a partire da quella madre. Con la giusta cura, il Pothos può crescere rapidamente e svilupparsi. In una pianta rigogliosa, aggiungendo bellezza e freschezza al tuo spazio vitale. Il Pothos è noto per sviluppare foglie più grandi quando viene incoraggiato a crescere in altezza. Continua a seguirci per scoprire altre piante affascinanti per il tuo appartamento.